Si è celebrata a Castel di Tusa la cerimonia di consegna della bandiera blu. Per il settimo anno consecutivo, il comune a Lesino ha essato questo prestigioso vessillo internazionale, frutto del rispetto di rigorosi requisiti e criteri relativi alla gestione sostenibile del territorio. Un marchio che certifica la qualità delle acque del mare Tusano e delle spiagge, e che attesta il valore del progetto di valorizzazione e tutela del territorio portato avanti dalle amministrazioni comunali a Lesine negli ultimi anni, ovvero fare del centro Tusano un polo escursionistico sempre più affascinante e attrattivo, capace di imporsi sul mercato delle vacanze d'elite, attraverso la qualità della balneazione e la valorizzazione e la promozione dei siti archeologici e naturalistici. Inizia la stagione della bandiera blu a Castel di Tusa, anche quest'anno per il settimo anno consecutivo siamo riusciti a ottenere questo prestigioso riconoscimento che qualifica il nostro territorio e ne fa una delle mete turistiche balneari più ambite d'Italia. Siamo felici perché il riconoscimento è stato assegnato alla spiaggia del lungomare, un tratto di costa che dieci anni fa era totalmente eroso, totalmente distrutto. attraverso una programmazione seria e adeguata siamo riusciti negli anni a ricostruirlo, a fare il ripascimento della spiaggia e finalmente con i servizi che riusciamo a dare alla collettività ad avere questo importante riconoscimento che gratifica un immenso lavoro di squadra fatto dalla Giunta, dal Consiglio Comunale, dai nostri consiglieri, da tutti i dipendenti comunali di tutti i livelli che con grande spirito di servizio e di sacrificio quotidianamente lavorano per lo sviluppo della nostra comunità.